bella ragazzi io sono Savix e questo è il mio canale iscrivetevi a tutti i miei social per avere i requisiti per vincere un account milionario ragazzi iscrivetevi al mio gruppo telegram se siete da xbox volete giocare con noi e partecipare agli eventi che facciamo ogni santa domenica ragazzi e se siete da ps non c'è nessun problema siamo presenti quelle lì e siamo in uno dei gruppi più grossi in italia quindi vi lascio tutto in descrizione e adesso ragazzi non resta altro che salutarsi e vi lascio al nuovo video regà buona visione bella regà qua è Savix che vi parla oggi vi porto un metodo per scambiare coi amici col com to com ragazzi punto di scambio sandy shores gli stessi parcheggi dove portato la god mod qualche giorno fa requisiti come ragazzi con l'apposito veicolo all'interno e un nostro amico che ci regalerà una macchina ovviamente noi dovremmo usare anche il veicolo da sacrificare quindi dopo ciò spingiamo questa macchina fino in fondo alla strada e ci parcheggiamo col com in modo che il pallino blu sia al quinto posto e le ruote stiano al quarto posto dove c'era parcheggiata la macchina a questo punto fate venire un amico dietro vostro com e fate entra con amici e crew quando il vostro amico sarà entrato dentro com voi uscite con la macchina e lui uscirà a piedi adesso ragazzi una volta che siamo fuori dobbiamo scontrare il com ok quindi andremo a picchiare una volta sul com e adesso dobbiamo andare a sbattere finché non ci da la possibilità di entrare nel com quindi quando vedremo il pallino blu per terra allora ci potremo fermare raga adesso mi è spuntato il punto quindi vado un po più indietro del punto ragazzi e schiaccio freccia destra e subito dopo menu interazione a questo punto posso scendere dal veicolo e salirò sul veicolo del mio amico una volta che sono seduto dentro la macchina ragazzi il nostro amico andrà dietro al com e farà entra con amici crew e sbamme raga avremo preso il veicolo adesso per salvarlo ci facciamo invitare nel com del nostro amico come tutti con tu com e ragazzi una volta che siamo dentro come del nostro amico possiamo uscire rimandare al deposito il veicolo attivo che abbiamo e richiamarci la macchina dei servizi del com rega io spero che i miei glici vi aiutino lasciate like lasciate un commento sostenete xavix ci stiamo avvicinando all'estrazione del 500 iscritti riga quindi dopo di ciò io vi lascio e sbamme raga al nuovo video e e